Un momento molto importante per la Facoltà di Cesena, anche per l'Università di Bologna, la presenza di un ospite a livello internazionale. Come ha vissuto la giornata di oggi e anche la lezione che ci è stata portata? Molto bene, poi insomma un ospite di grande qualità, ma qui ci sono persone di grande qualità dal punto di vista della ricerca scientifica, ci sono gruppi molto qualificati e anche per questo il collega Ragaman ha accettato questo tipo di venire qui per questo onore. Comunque ripeto, il livello di qualità scientifica del corso di laurea e dei gruppi che agiscono all'interno del corso di laurea è molto elevato, è elevatissimo, quindi onore al merito e questo evento dimostra ancora una volta che è la proposta culturale, scientifica e didattica di Cesena e di elevata qualità. Ecco, è venuto anche a fare lezioni agli studenti, quindi un momento di scambio. Ragaman ha abberti in oro prima, poi ha ricevuto la laurea, quindi un momento molto importante anche per gli studenti che frequentano questa università. Sì, ma io credo che questi eventi danno anche la dimensione internazionale di quello che è questa proposta, questa proposta culturale, didattica e di ricerca, cioè far vedere che in effetti si agisce in un territorio che è Cesena, ma la Valenza è internazionale e eventi come questo oppure le lezioni tenute dal professor Ragaman a Bertinoro danno proprio questo senso. Anche ai ragazzi il senso che noi guardiamo il corso di laurea e i gruppi che agiscono qui a livello di ricerca guardano all'Europa e al mondo intero per quanto riguarda le collaborazioni scientifiche e la possibilità anche di muoversi in contesti di ricerca di elevatissimo livello. Ecco, si è parlato anche dell'importanza della ricerca. L'Università di Bologna investe tantissimo in ricerca. Come sarà in futuro anche questo campo di ricerca scientifica? Il campo specifico di tecnicità? No, no, ma io credo che è un campo fertilissimo dove, diciamo sì, anche dalla presentazione di Ragaman si è visto chiaramente che alcuni problemi nella ricerca di base sono comuni anche a un paese importante come gli Stati Uniti. Il problema è che bisogna saper coniugare ricerca di base e ricerca applicata. L'America però ha aziende che investono pesantemente nella ricerca. In Italia questo avviene un po' meno, per cui diciamo il finanziamento ministeriale e il finanziamento dell'Università di Bologna sono gli unici due finanziamenti che veramente contribuiscono al salto di qualità della ricerca. Non c'è moltissimo a livello nazionale di finanziamenti industriali per tanti motivi. Questo qui è uno dei punti critici da valutare. L'Università è ancora un'isola felice per quanto riguarda la ricerca scientifica in questo campo, si può dire così, qua in Italia? No, ma ci sono anche aziende di qualità che svolgono attività di ricerca in questo campo. Sicuramente l'Università fa la sua parte, l'Università di Bologna ha un'ottima dotazione nel settore di scienze e tecnologie dell'informazione. Ricordo Cesena, ma ricordo anche le attività svolte dalla Facoltà di Scienze a Bologna, le Facoltà di Ingegneria, eccetera. C'è un gruppo molto forte, consistente e ben qualificato a livello mondiale. Poi se è un'isola felice, è difficile dirlo. Si lavora bene, si lavora bene e le persone sono di qualità. Poi non so se hai visto, molti membri della Facoltà sono molto giovani. Noi abbiamo cercato di reclutare giovani e questo ci sta dando ragione.